Sono i più giovani, donne e uomini, a prendere la parola, a dire chiaro e tondo che il potere costituito non può pensare di cavarsela così, con un'operazione di macchiaggio. Congedato definitivamente il vecchio e malandrato presidente Bouteflika, alla fine di settimana scorsa, ecco spuntare Abdelkader Ben Salah, 77 anni, presidente del Senato, nominato stamattina, in base alla Costituzione, presidente ad Interim, cioè per tre mesi al massimo, in attesa delle elezioni alle quali peraltro non potrà candidarsi. Ma al popolo algerino non basta. Chiede a Gran Voce che si faccia da parte l'intero vertice del regime che ha dominato il paese negli ultimi anni. Via non solo Ben Salah, dunque, ma pure il primo ministro Bedoui e il presidente del Consiglio Costituzionale, Belaïs. Si tratta di capire come reagiranno i militari, che in questo grande paese nordafricano che affaccia sul Mediterraneo, hanno sempre giocato un ruolo decisivo. Oggi migliaia di persone sono scese in piazza ad Algeria e in altre città. Non vogliono che la rivoluzione, cominciata più di un mese fa e sempre rimasta pacifica, finisca nelle mani dei generali. Vogliono essere loro a decidere il futuro.